Belotti ragazzi e benvenuti ragazzi in questa nuovissima live di The Last of Us parte 2 Oggi andremo a continuare la storia appunto da dove ci eravamo lasciati Ci eravamo lasciati niente Ci eravamo lasciati da quando diciamo eravamo con Eravamo appena usciti dall'hotel dove abbiamo trovato diciamo i responsabili del Uno delle persone che c'erano l'uccisione di Joel Appunto abbiamo trovato delle vittime diciamo di Tommy Quindi sappiamo che Tommy è a Seattle in questo momento Adesso vedremo cosa succederà Sappiamo che Tommy è a Seattle quindi niente Sappiamo che Tommy è a Seattle e sappiamo che Uno delle persone che c'erano l'uccisione di Joel E' stato appunto ucciso da Tommy Quindi diciamo che c'è stata un po' giustizia da quel punto di vista Niente ragazzi ci eravamo lasciati qua al gate east appena usciti Direi ragazzi che si dobbiamo andare di qua Vediamo cosa ci sarà al gate east Ah no ragazzi Forse credo che sia Mentre ragazzi Direi che Attiviamo il generatore Ok Non so Dino Ok ok Buona idea Ok Cerchiamo un edificio aperto Possibilmente senza infetti Oh VLF Lupi E' uguale Porca vacca L'Aida morta Porca vacca L'Aida morta No 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 Minchia Ragazzi mi sono spaventato per il voto Cazzo No Oh ma il cavallo che cosa c'entra Cazzo Cazzo Soppure Vabbè tanto ragazzi adesso mi prendono Cioè E' inutile che vai avanti Adesso mi tireranno via la pistola Cazzo Cazzo Mi sono veramente spaventato Cazzo Ragazzi Mi sono preso un colpo Aiuto Credevo che ti avrei rivista Come ci hai trovati E io speravo di non rivederti più Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata Simpatica In quanti siete? Mh? Solo voi due Non puoi impedirlo Giardana Non dovresti essere fuori a cercare l'altra Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì C'era anche lei Cosa? Cercano vendetta Per questo hanno fatto a pezzi Nick Dobbiamo portarla a Isaac E dirgli esattamente che cosa sta succedendo Sì Beh ho appena sentito Isaac via radio Abbiamo nuovi ordini Eliminare gli Oh oh ehi frena 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 Scusate ragazzi Si sono stoppato nel mezzo del dialogo Ma stavo un attimo parlando con i Con ottimi legenduri Scusate veramente Non ha senso Senti è un ordine diretto No parliamole Scopriamo che cosa sa Ma che cazzo me ne frega di cosa sa Hai visto anche tu cosa ha fatto a Yann Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei Potrebbe essere un imboscato Non mi interessa quanti sono Li troveremo e li uccideremo Vuoi pensare con la tua testa Almeno per un secondo Levate dal cazzo Jordan Ehm Gra Chi è Chi è ragà È Tommy Ah no è Dina È vero ragà Dina quindi Eh sì Vero ve l'ho detto Ragà Dina riuscirà a sopravvivere Ok No Dina no 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 Ah sì Ok Dai Spaccati Corda Spaccati Va Vai cazzo Ammazzalo 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 Ah Sì Sì Stai bene Credo È lì È lì Dobbiamo andare Avranno sentito gli spari Guarda È una di loro Muoviti La guardiamo dopo C'era uno studio tv sulla mappa Che cazzo ne so Andiamo Cazzo ne so Ah Ria Ah Che si spari E brucia pelo Sì Vai Sì Cazzo Finalmente Sì Assevate Non piccate No Me l'ho preso Oh Ria State calmi Cazzo Ok 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 Una morta Mori bot Ragazzi Non so perché ho detto bot Comunque mori stronzo Basta Va bene così Sono abituato a dire così su Fortnite Mori bot Vabbè Comunque Io li odio sti Quello Cioè Ci stanno L'hanno ucciso Giò E Cioè Stanno Vabbè Comunque Oh No Caci Sì Se non No Tranquilla Cazzo Sto morrendo Porca vacca No Non i push Ragazzo Che c'è pochissima vita Ok 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 Morti Vediamo che c'aveva questa ragazzi Se avevamo insieme la pistola Va benissimo Perché Io non ho più colpi di niente Eh va bene ammazzato Ci stanno Vabbè Ragazzi ho pochissima vita Scusate Ci riprovo Vabbè Tanto Non è che sia difficile Però comunque Uh Quante Non sei Ok L'ho preso What una bottiglia in faccia raga ma io c'ho un kit no cazzo non questo fanno il kit ok io la voglio fare armata questa ma ci vuole perché non ho colpi grazie vino scusate raga fatto un po' schifetto vabbè non sto schifo ragazzi anche in te questo sarebbe facile però cioè è facile però scusate raga stavo bevendo si attaccala dal fianco tranquillo cazzo no tu no tu no tu no no verga io lo voglio fare la prova questo scontro però c'è Dina che e vabbè mi è già io ciao morto no 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 porca vacca non ho più colpi No porca vacca Erga ma non ho colpi di niente porca vacca Ma faccio tutti eh boh non so Aspettate Sì avanza tranquillo Come no Da dove? E' qua Non ho più colpi Ammazzata Uh c'è sto tipo Seccato Stai bene? Sì Ti riconosci qualcuno di questi tizi? No Vabbè non li riconosci sono tutti alla... Al volata Cioè Ma... Cioè Non li riconosci perché non sono loro Allora ragazzi io direi di... Ehm... Ok Ho bisogno di farlo Ho bisogno di farlo Ho bisogno di farlo raga un po' Resta qua così ti fai soccare Vieni che hai un po' di colpi Ah, sì, questo va bene No, allora Ma sapete, regà, io che ti dico Io quello là Lo prendo Però no, ovviamente, regà, non con questo Questo lo sto caricando, perché Dopo potrebbe essere Regà, secondo me non si può uccidere anche Quanto che fa Secondo me Bisogna vedere quello che fa Se si gira verso di me Questo in giro Se io fado così non mi dovrebbe vedere Ok, non mi vede A quel punto io posso girarmi Eh, che ti devo dire, eh, mi ha visto Non è andato male Ok Eh, vabbè, ma non mi sono alzato Perché non mi è andato il tempo Capite La difficoltà Cioè Non la difficoltà Però Cioè mi sono alzato E questo Mi è sperato Vabbè Non lo so Guarda il cortino Tu Alla caffetteria Io resto qui Ok Dov'è la caffetteria? Bravo, Dino Ma bravissimo No, no, no Fammi sparare Ok, mi sono qui Non volevo salire Via Ammazzato C'è un problema Ragazzi Non ho più munizioni Ci sta, vabbè Ci sta, ci sta, vabbè No, raga Io non lo sto facendo Stealth Perché voglio farlo un po' aggressivo Perché sinceramente Il gioco mi piace un po' più In modo aggressivo Però Mi sa che sto giro Dove non fare stealth Però, raga Non voglio fare la stealth Beh Ok Facciamo la stealth Ah Sì, sì, sì Vabbè Ok, raga Mi sa che Cioè mi facciamo questo Sì, tranquillo E invece Spariamo Dai, questo avevo Volevi spararlo Ragazzi No, ragazzi Nessuno Più munizioni Oh, cazzo Non più niente Mamma Si Ah 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 Mi darei Tu mi mi stai No A me Ok 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 no raga io senza munizioni che corro in giro aiuto e tu sei l'ultimo no dai con l'ultimo colpo lo ammazza questo è un cavolo mi dai due colpi perché nessuno aveva dei colpi datemi allora vediamo se a tutti questi ce n'era cioè raga io che rannavo con il coltello senza munizioni che lanciavo bottiglie c'è e nonostante questo sono riuscito a farcela nonostante quello nonostante quello ce l'ho fatta vabbè dai ci sta tutto ho bisogno di munizioni no raga dai non ho voglia di farla ancora stealth che palle cioè non l'ho fatta stealth prima però voglio farla ancora un po' aggressiva morto morto ok c'è c'è stato l'uomo c'è stato piaciuto di è dorato di me sono sono più bello non aveva la munizionina oh no bisogna passare di qua vediamo cosa c'è allora le pillole ragazzi adesso si mi posso servire allora vamo vedere mi sa che cos'è innamoro da voi ok potrebbe essere sempre utile per gli infetti ragazzi cioè mi si dovrebbe servire oh no non voglio usarla però ok direi ragazzi di ricarricare un po' tutto blocco che ne dici eh sì proviamo va bene ce lo dici tu niente vabbè no ci sono le macine le macinine forza forza dobbiamo darci da questa scuola ora io con mezza vita mi faccio mi faccio sto mi faccio mi faccio andiamo devo fare un panno forse ragazzi mi posso fare no vediamo cosa troviamo non mi sa che non c'è niente allora io direi allora di andare di qua non se lo c'è una cosa va bene questo è un oggetto lucidante si è un po' un po' di acqua ah no è una bottiglia quindi e direi di vedere cosa c'è questo passetto guarda la volessi guarda la collezionante o carti questo vediamo non so perché ragazzi un po' di pillole se no allora cosa faccio vabbè in sta camera cioè si è il foschio cioè se mi è preso guarda sto letto immagino le persone cosa fanno tutto abbandonato cioè poi abbandonato da tempo tutto questo tutto questo dov'è di no quindi io adesso dove dovrei andare non ci sarà tipo non ci sarà tipo una via di uscita da sto posto no no oh dov'è che io vado ragazzi che no non ho capito dove dino bello ci sta mi sono fatto un bel volo che facciamo adesso aspetta lascia mi ripenta la cosa di no prima di scappare ok c'erano alcune cose che ovviamente mi devo ripendere che sono questo panno una cosa di qua queste che ho al massimo prendo questo mentre il cassetto non c'è niente le pillole che stavano in bagno l'idea tutto il mondo dove c'è l'idea un po' non l'uomo non vedo non c'è niente un po' ok diremo se non c'è che sono molto molto utile no poi a parte questo punto su un po' eccomi ragazzi scusatemi se continuo a fermare però c'è sempre un tentore scusate ancora ragazzi ah che palla non è possibile fermarsi ogni 2x3 andiamo vai che facciamo scendiamo da qua però mi faccio un po' male ok entriamo da qua ok non c'è nessuno però porca vieni a vedere è una di loro che si fotta allora leggi la lettera Jordan Isaac ci ha segnati per due settimane intere allo studio tv viene avvistata in zona questa è per farti compagnia lo studio tv pensi sia ancora lì non resta che scoprirlo allora è vicino a questi palazzi alti di là prendiamo via e niente ragazzi io beh no ovviamente no non chiudo la live sembrava tipo il tono di quando la live finisce però comunque non è così andiamo allo studio tv sì sì cazzo me la sono vista brutta Ellie sta sempre bene grazie per l'aiuto Ellie anche quando sta per morire Ellie sta sempre bene gli arrivano mille infetti contro le ammazzo tutti ah beh dai sta bene si prende un morso e lo subito dopo sta bene sì decisamente federa 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 la differenza no direi ragazzi mi passare per un po' e noi andiamo quando capiranno che non siamo più alla scuola e che abbiamo ucciso ci daranno la caccia in massa cosa sto muovo il genere non mi aspettavo non mi sono e se fossimo stati rifugiati o avessimo avuto informazioni utili per loro non mi sembra che mi interesse tipo non posso saltare ok no mi sa che dovevo andare da un'altra parte eppure non me lo spiego voglio non lo so sembra assurdo forse sono stupide forse vedo ancora gli edifici come vuoi procedere vediamo ma non lo so aspetta ho bisogno di vedere la mappa ho bisogno di consultare la mappa ho bisogno della mappa di shuttle io ho bisogno di sapere in questo momento aspetta ripieno un attimo la mappa di shuttle a me dove sono aiuto i don't know that la giù attenta comincia ad avere fame beh allora smetti di parlare già dove cazzo è la ragazzina qui da qualche parte non potrebbe essere una iena era a cavallo non è è andiamo a mangiare ok sicuro la troveranno prima le iene o gli infetti meglio e lì dovremo solo recuperare il cadavere se hai il cadavere dovrebbero che lo ammazzerò io ma ti stai abbassata mamma mi stiamo attaccando noi veloce e pulito beh pulito non credo pulito punti pollo c'è riconosci qualcuno la testa volati si è grande sì parecchio mi auguro di no io vado in giro con questa buono questa cosa non mi schia ci sta mi sento bisogna passare qua noi dobbiamo andare allo studiativo e vorrei sapere dov'è lo studiativo non me la da dove escono i disertori beh quelli mi fanno proprio schifo io me ne sbatto se non vogliono stare qui non è un problema sei finita vieni più vicino guardami negli occhi cazzo che schifo non ancora come faremo a stare sole con lì questa azata fuori infestata ci basta un minuto per parlarle vuoi costringerla a parlare se necessario ci pensi questa zona sta sull'unale dove è io ancora non capisco perché ci stiamo ritirando non ci stiamo ritirando andiamo in missione sono serviti mesi per renderla sicura i pezzi grossi sanno quello che fanno credo forse ho visto qualcuno guardando no raga l'ho smirata così non ci credo ma dai dai ti ho ammazzato eh ok raga una l'ha ammazzata però pochissima vita quindi quindi porca vacca raga corri corri ho bisogno di farmi un kit oh porca vacca raga mi ha ammazzata buongiorno raga buongiorno allora dove sta facciamo la finita ok ammazzata ok ammazzata peccato che non ho il fucile quello più lungo diciamo ok ammazzato c'è quello sopra ammazzato dai picca cioè come non l'ho preso aspettate adesso l'ho preso però raga ho quasi finito le munizioni ammazzato ok raga l'ultimo matrix vai ancora lo scrivo i proiettili questa qua uccisione eh guardate con no corri no 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 raga volevo ammazzarlo con il con il palo vabbè dai ci riprovo dai azza andiamo direi subito eh volevi io la faccio ragazzi subitissimo non voglio farlo ammazzo prima lei e dopo lei uh quest'arma è buona infetti no il krieger porca putrettola ma dove sono dove sono spuntati gli infetti ragazzi porca vacca adesso lo giuro che la la faccio stealth perché se no ragazzi non ce la si fa seriamente e invece di più i combattimenti invece più problemi sinceramente più aggressivi cioè mi piace farli tanto stealth cioè preferisco piuttosto sparare che sinceramente dai ragazzi no voglio continuare a farli anche se ci metto più tentativi però mi piace sinceramente di più io direi di ammazzare una e due attra no che mi piace per mi piace per me piace per se non ho capito No, ho sbagliato il provenire, ragazzi Devi morire Hai delle munizioni? Dai, come dai? Non ho delle munizioni Io come faccio ad ammazzarlo quello là? Non so se i ragazzi sono lui oppure... Ah no, ce n'è pure un altro Ah no, ce n'è pure un altro Ah no, ce n'è pure un altro No, fai culo Ah mi fa ripetere da qua, grazie mille Io probabilmente ho sempre la misa di munizioni Sai cosa faccio? Ti tirano in faccia Ti tirano in faccia Ti tiro una bella ammazzata in faccia No, una bella coltellata Ma tu ovviamente mi dai le tue munizioni Oh, perché mi ha fatto una bella ammazzata in faccia? Che palla Sì, lo fai, se li voglio fare Ok Dobbiamo superare il muro del presidio Gli edifici sono dall'altra parte Ok Guardate intorno Deve esserci un varco Tipo qua? No Non è che tipo si può Ehm Vabbè, ovvio Facciamo così Ci va solo un modo qua Ok Poi entriamo da qua Ok Eeeh, ho trovato il modo E che facciamo? Andiamo sopra la squadra Mi sembra la via giusta Ok E' fatta E ora? Non è che magari bisogna andare di qua? No Mi sa che qua è tutto bloccato Qua sicuramente non possiamo andare Ehm Secondo me Sai cosa? Questa la squadra Questa è quella che parte Ehm Già D*** Ufff Sperato di Ehm Ok Andiamo Non so come avrei fatto finora senza Oh merda Che cazzo è stato Era una trappola Una cosa? Trappole esplosive Guarda dove metti i piedi Ok Per lo stesso Ragazzi Cazzo Sto bene Forza Sì Ah Ah, non par le net! Ah, non par le net disponibile! Ravigli! Ah, porca troia. Hanno sperato a tutti. Guarda. È di Tom. Gli infetti se la sono spassata. Stai bene? Sì, scusa, è solo... la pozza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Come si è ridotta questa città? A Boston non era così vero. A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno costo troppa resistenza. Tommy è passato di qua, sicuro. Barricata robusta. Barricata robusta. Ok. Beh, da qui non si passa. Fermati. Trappola. Merda! Che occhio! sono ovunque. Sono ovunque. Saranno per gli infetti. Eppure... un passo in più. Sì. Stiamo attenti. Fantastico. Funziona. Sì. L'ho imparato da Joy. Sì. L'ho imparato da Joy. Sì. L'ho imparato da Joy. Sì. 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 Hanno riempito l'intera zona. Dubito passino spesso di qua a vista la situazione. Per noi è un vantaggio. Ecco. Infetto. Entra tu. Tu. Dove sei? Guarda la caga sotto. Non viene. Oh. Vai tu. Io no. Vabbè. Ah. C'è una scelta da parte mia. Quindi. Ah. Mi vediamo. Sì. Sì. Ah, eh. Dai, vuoi cercare? Eh. Sì. 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 Eh. Ha bruciato quella giusta, non so di qua. Beh, meglio. riuscirò un po' di cose una pillola posso creare qualcosa? no niente scusa qual era la combinazione? due ok un po' di 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 Ah, proprio che ho bisogno Allora Allora Se cifre del numero di stati La commissione Ah, ok Va bene 0 1 Cioè Babbè Allora Senti E là, il va s'aventir Allora 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 Questa erba alta Mi mette ansia Sì, è difficile vederci qualcosa Allora 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 Di nuovo quel disegno Ah Allora 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 Scusate ragazzi Allora 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 Siamo molto discreti. Magari sarà lì a trovarci. Sì. Potrebbero tenderci un'imboscata. Devo entrare lì dentro. Eccoci. Resta bassa. Sembra buono. Non mi fido. Oh, cazzo. Brutale. È stato Tommy? Entriamo. No, cazzo. No, cazzo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti